La difesa del lavoro e il rispetto delle norme costituzionali rientrano in pieno negli obiettivi perseguiti dall'Ampi. In previsione della prossima estate, la delegazione Leda Antinori di Fano ha voluto porre l'accento sull'esigenza di tutelare in particolare il lavoro dei giovani nel settore della ristorazione, dove spesso si verificano episodi di sfruttamento, lavoro sottopagato, lavoro nero, mancato rispetto del contratto nazionale. Di qui la fuga dei giovani da questo settore che viene spesso scambiata per indolenza. Paolo Pagnoni ha riunito sindacalisti, esponenti di partito, insegnanti e giornalisti di Eno Gastronomia per evidenziare il problema. Proprio l'Ampi con la sezione Leda Antinori fosse la promotrice di questa conferenza stampa perché per fare proprio il punto sulla problematica del lavoro stagionale in particolare nasce con il fatto di non trovare persone disposte appunto a impegnarsi durante la stagione estiva. I giovani in particolare non hanno più voglia di lavorare, preferiscono starsene a casa piuttosto magari, anche se questa cosa decisamente non vera, però preferiscono attraverso il reddito di cittadinanza, non occuparsi più di lavoro e quindi ci pareva giusto fare proprio accendere un faro su questa problematica. La tesi che sia il reddito di cittadinanza a frenare l'occupazione dei giovani nel settore della ristorazione, che richiede indubbiamente dei sacrifici, è stata smentita da Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Io sono contrarissima a questa narrazione che purtroppo con la propaganda che è stata fatta soprattutto dal livello nazionale è arrivata a convincere tanti nostri concittadini che il reddito di cittadinanza abbia viziato il mondo del lavoro. Adesso che praticamente è stato abolito e da luglio non ci sarà più per gli occupabili, quindi per tutte le persone che con una debita formazione possono rimettersi nel mondo del lavoro vedremo che cosa succederà. Innanzitutto già da qualche mese abbiamo nelle nostre città, anche nella nostra Fano, la comparsa di cartelli per la ricerca di personale nei luoghi della ristorazione, nei bar lungomare, eccetera, eccetera, ma come esattamente è successo negli anni scorsi non si trova personale, quindi c'è da chiederci era colpa del reddito di cittadinanza, io posso affermare che non è così, visto che è stata tirata dal governo nazionale, è una bella sbarra sopra questa riforma che ritengo invece una riforma di civiltà e si continua però a dire che i nostri giovani sono fannulloni, io ritengo invece che i nostri giovani abbiano colto qual è il loro lavoro e pretendano che sia legale la loro situazione contrattuale, per cui no al lavoro nero, no allo sfruttamento, bisogna che i contratti siano quelli che prevedono a livello nazionale il giorno di riposo. A rilevare l'entità del fenomeno sono significativi alcuni dati esposti da Roberto Fiscaletti, sindacalista della Filcams e CGL. Io andrei anche oltre alla ristorazione, la cosa che mi fa male da educatore, da uomo di scuola che ha spesso la sua vita nella formazione dei giovani e sentir dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, non sono motivati. Io penso invece che la scuola ha le risorse umane, che sono le risorse strategiche di questo paese e se non si crede, non si dà fiducia nei giovani, è difficile pensare con ottimismo al futuro di questo paese. Io vedo che i giovani, molti, stanno prendendo la via dell'estero, quindi non solo bisogna rimettere i giovani e la scuola al centro dell'interesse politico e nazionale, ma fare in modo che questi che stanno andando via tornino a rilanciare sempre di più e a galvanizzare il concetto del Made in Italy. Ci sono anche carenze nel mondo della scuola? La scuola è in grossa difficoltà perché vive tanti problemi, a cominciare dal turnover dei docenti, continuo anche dei dirigenti e questo non dà continuità formativa. Seconda cosa, l'istruzione professionale è fortemente deficitaria in questo paese, è stata trascurata dalla politica per troppi anni.